Gruppo Bolli Oh no, dai, non sei felice? Sì Siamo a Couchwell Direzione 1850 Abbiamo appena visto la pista dove atterrano gli aerei Ok, andiamo, facciamo una ripresina su questa strada, forza Facciamo una ripresina su questa strada, forza Allora, Emilia La nostra Maria Che sta eseguendo gli esercizi Che io ho appena suggerito Busto costantemente flesso Per quello mi sta a sentire abbastanza Busto costantemente flesso, ok Bene Questa Ecco, Tartaglini che invece Sta facendo gli esercizi acrobatici La Francesca Mi si sta congelando la mano, ma va bene lo stesso Stiamo andando a Couchwell 1850 Stiamo arrivando Ecco il paese Qui è tutto, tutto molto molto bello Veramente Neve perfetta Riccola Riccola Perfetto Fate vedere i vostri sguardi felici Ma tanto in basso non ci andiamo Mi scusa Fa un saluto in maceratese a tutti gli amici di macerata Io Non so come ringraziarvi Mi fa piacere ma i maceratesi d'origine siamo io e Fabio Va bene, salutiamo comunque i maceratesi con lo Ciclè Psenigaglia Evviva Ma io ormai sono con l'Italia Da Couchwell 1850 Gabriele Gemignani è tutto A dopo A dopo A dopo A dopo A dopo A dopo